ciao ragazzi sono simon88 e lui è? Filippo. Allora Filippo in questo video cosa facciamo vedere ai nostri amici? L'album dei pokemon. C'è lo starter pack dei pokemon di 151 scarlatto e violetto che comprende quattro bustine più cosa c'è dentro? L'album. Allora ragazzi questa è tutta la scatola vi faccio vedere. Qua c'è l'album qua quattro bustine e dietro praticamente c'è scritto che c'è il raccoglitore per contenere tutte le carte pokemon. E poi è colorato l'album è tutto colorato e a Filippo piace tantissimo e adesso lo facciamo vedere bene nel dettaglio con l'apertura dei pacchetti ma se non volete perdere i nostri video cosa devono fare Filippo? Icriversi. Si devono iscrivere al canale e lasciare? Un like. Bravissimo vedi che sei tu sei già esperto quindi iscrivetevi e lasciate un like per non perdere i nostri video. Quindi adesso ci andiamo a aprire questo starter pack di 151 dai? Potembo. Cambiamo inquadratura e andiamo. Allora ragazzi abbiamo aperto tutte le bustine perché per fare più veloce le abbiamo già tutte aperte. Qua abbiamo messo tutte le carte che abbiamo trovato vero Filippo? Si. Allora questa allora penso allo contrario l'abbiamo trovato qua è Pikachu poi abbiamo trovato Lickitung questa potere brillante che sarebbe una fuori sé poi abbiamo trovato qua il Dragonite questo ti piace? Si. Homanite abbiamo messo tutte le brillanti per prima poi abbiamo messo il Jolteon questo cos'è? Ti piace questo? Si. Midorina poi abbiamo trovato questo Tetna Cruel Marowak questa è bella guarda hai visto? Super brillante. Questo è super brillante. Questo è super brillante così si chiama Wartotal. Si allora mettila su. Questa è l'energia di acqua questo a metallo rapida. Ragazzi queste sono le carte che abbiamo trovato. Si avrà un po' trappe. Che abbiamo trovato qua. Adesso non sto qua a dire tutti i nomi. Questa è un altro Pita Su. Eh questo lo sa chi è. Dove Pita Su se lo sa. Questo entro qua. Qua abbiamo tutte le carte. Questa è doppia l'abbiamo trovata. E vabbè. L'abbiamo messo in queste sono tutte le carte che abbiamo trovato in questi quattro pacchetti. Qua abbiamo l'energia base. Il Diglett. Doppia. Bubasaur. Un'altra energia base. Questa è la Trena. E questo è il nostro Stansu. Allora qui abbiamo il nostro album che era compreso nella collezione. Facciamolo vedere. Guardate qua che bello. Guardate qua che bello ragazzi. Non sembra un po' Scarlatto Violetto 151. Allora ragazzi. Noi non metteremo tutte le carte di questa espansione vero Filippo? Si. Le metteremo un po' miste perché noi ne abbiamo un po' di tutti i tipi. Si. Guardate qua che bello. Questo è. Ci stanno praticamente tre. Sei. Nove per pagina. E qua dietro anche. Si. Si. Ok. Vada. Abbiamo la bellezza di 360. Questa è la carta che c'è dentro. Per non farlo rovinare. Ci sono la bellezza di 360 carte dentro. Questo non serve. Con l'estastico. Si. Questo non serve. Poi abbiamo qua un altro album. Lo posso vedere io. Un altro album ragazzi che avevamo preso in fiera. Si. E qua Filippo ci ha messo tutte le carte. Brillanti. 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 Guardate qua. Pitta su. E poi. E poi. Pitta su. Pitta su. Si. Tutte le carte brillanti. Guardate qua quante che ne abbiamo qua. E sai vedere le altre poi. Si. Adesso facciamo vedere. Tutte. Adesso facciamo vedere quelle speciali che abbiamo preso. Queste le posso vedere io. Allora. Queste non sono originali. Lo diciamo già subito. L'abbiamo trovate. In un mercatino. E le abbiamo prese. Sono 60. E siccome a Filippo piacevano. Le abbiamo prese tutte. Vero? Si. Allora. Segniamo faccela. Allora. Aspetta. Facciamo vedere. Qua qua ci sono. Queste dico già che non sono originali. Però sono belle. Da vedere. Aspetta. Aspetta. Mi tiriamo. Tiremo fuori un ciale. Così facciamo vedere. Facciamo vedere. Le quali. Facciamo vedere la qualità. Allora. Facciamo vedere questo. Questo è il retro. E questo è il nostro. Aspetta. Facciamo vedere. Facciamo vedere. Facciamo vedere. Ciaisard. Va. Hai fatto sì. Ah. Guardate. 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 Non sono originali. Però sono fatte bene. Guardate. Pure in italiano. Questo è il retro. Pokémon. Guardate. Quindi. Se volete spendere poco. Si. Posso trovare anche. Su Amazon. Perché comunque. Ci sono anche su Amazon. Guardiamo. Ecco. Sono poco. Ma fate felici i vostri figli. Però sappiate che non sono originali. Vero Filippo? Si. Adesso le attiviamo a mettere. Allora. Adesso. Lui metterà queste qua nell'album. Uno alla volta. Io dice lo... Un po' alla volta le metteremo nell'album. Adesso qua metteremo tutte le brillanti. Si. Per prima le brillanti penso. E dopo facciamo vedere come le ha messe. Allora. Abbiamo messo le carte dentro qui. Filippo. Fai vedere un po' cosa abbiamo qua. Abbiamo qua. Allora. Abbiamo qua. Le nostre carte. Qua abbiamo messo qua un po' di carte. Ragazzi. E basta. Solo WS. Dietro ci sono WS. Abbiamo messo un po'. Qua poi. Compriremo altri pacchetti. E riempiremo tutto questo. Ce ne stanno. 360. Ce ne stanno. Le pacchetti sono botte. Allora. A noi non ci interessa di completare il set. Perché sappiamo che Filippo gli piace. Mette qualsiasi carta che trova. Perché qua gli piacciono tutte. Quelle brillanti. E questo è l'album di 151. Poi fai vedere. Fai vedere questo album qua. Che è sempre... Qua c'è l'elastico da mettere. Fai vedere questo. Qua abbiamo fatto tutte le nostre brillanti ragazzi. Qua c'è lo servo. Qua un po' di ispensioni diverse. E tu le puoi. Andiamo qua. Beh. Questa è quella del McDonald's ragazzi. Eh sì. Questa. Questa è quella che abbiamo trovato oggi. Sì. Questa è quella di Pikachu. Guardiamo dietro. Questo è il Dragonite. Questa è la speciale fuori serie che abbiamo trovato. Questa è la serie. E queste come ripetuto non sono originali ma a Filippo piacevano molto. Questa è la città. Se volete. Questa è la città. Questa è la pista ciclabile. Questa si chiama. Sì. Queste sono quelle che abbiamo preso in un mercatino ma si possono trovare anche su Amazon. Poi abbiamo scoperto che ci sono anche su Amazon. Non sono originali però guardate qua che bellezza. Non le abbiamo comprate su Amazon. Come sono fatte bene ragazzi. Quindi se volete spendere poco e far contenti i vostri figli queste vanno benissimo. Vero Filippo? Sì. Guardate qua. Dai. Allora. Noi ci salutiamo Filippo. Ciao. Senti una. Dai Filippo saluta. Ciao. Dai Filippo ci saluta. Noi ci vediamo in un prossimo video con le carte Pokémon. Ciao ragazzi. Alla prossima. Ciao ciao. 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 Ciao.